Allora ragazzi siamo ancora in connessione nazionale in tutta Italia da Aosta al punto più lozano della Sicilia, c'è anche Lu Bellucci, vieni qua Lu perché dobbiamo presentare un dj super cazzuto, un dj che praticamente ha fatto la storia anche del Diabolica, un dj Ci siamo, mi ricordo Palacisalfa Scandalo, è partito con noi quella Diabolica, è per voi, è con voi, è dentro di voi, Emanuele Iglesias Fermi, 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 ecco non rimbelli, qui è il commissario Auricchio, qui è il commissario Auricchio, che facciamo? Non vale lo stronzo, sono il commissario Auricchio, di che commissariato sei? Ribadisco che sei uno stronzone, sei pure Ricchione E si muore che mi guardi sempre con una faccia da ebede, questo mi stai dicendo a me, balliamo Parlaci tu, parlaci tu Pronto, commissariato di polizia Le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani Do it Perché chi non va con le mani adesso, con le mani inglese, non stoppa per tutta la vita Ciao Rizzi Ciao dell'Occarizzi Le mani al cielo dai Stop it Move it Spagniamo Emanuele in tutte dai Stop it Move it Chew it Parti time not shaking Move it 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 Come on Bump 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 Move it Move it Do it Move it Come on Come on, let's go Come on, let's go Come on, let's go Come on, let's go meet you tonight Come on, let's go meet you tonight Come on, let's go If I knew I'd rather die Come on, let's go Come on, let's go meet you tonight 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.